Eccellenza, lei è sempre presente sul territorio. Lecce è una città che ha particolari emergenze, anche a livello sociale. Quanto incide la povertà a Lecce? A Lecce io ho cercato di dare delle spinte e ne sono più che soddisfatto dei risultati. Però non è la bacchetta magica che cambia la condizione sociologica o gli stili di vita o altro. Una Lecce spesso di lustrine e pagliette, una realtà lontana dalle emergenze reali della società. Ma com'è la situazione reale nella nostra comunità? Per il Vescovo di Lecce, Monsignor Seccia, la risposta potrebbe essere proprio nella proposta artistica del nostro Salento. La proposta c'è, dalla proposta direi proprio occupazionale, che grazie a questo essersi inventati, il barocco Leccese, e ora ci sono 30 persone che ricevono, che fanno da guida nelle chiese, che sono aperte da dopo la messa del mattino fino alla sera. E quindi abbiamo questa che io chiamo la bellezza, la teologia della bellezza. Perché non possiamo identificare, sia pure il caratteristico di Lecce, il barocco Leccese. Ma la bellezza che troviamo nelle chiese, basta andare anche nella cappella del seminario, ci sono tre altari, uno diverso dall'altro.